Salve a tutti friends dal vostro supercorris Eccoci qua ragazzi, approfondiamo al volo perché non ho voglia di soffermarmi 27 ore sulla Ferrari Anche se è una puntata dedicata alla rossa Francamente ragazzi mi fa ridere come vedo che gente che non capisce niente evidentemente di Formula 1 O gente che sono patetici ultra e che difende una spada tratta a tutto quello che fa la Ferrari Tutto quello che fa Sainz, tutto quello che fa Leclerc Io penso di essere uno dei più grandi tifosi della Ferrari Ciò non toglie e questo non mi ha permesso, cioè non mi ha vietato di avere una critica forte Perché voi potreste dire anche, ma tu critichi qua e là Io critico perché Ferrari se andiamo a vedere è uno dei team che spende di più in Formula 1 Non solo ora che c'è il Budget Cup che spendono tutti la stessa cifra ma anche prima È un team che per blasone ha l'obbligo di vincere, ha l'obbligo di lottare Quindi quando voi mi dite perché tu critichi Ferrari, Ferrari non si può accontentare mai Ecco perché sostanzialmente c'è questa critica continua da parte mia Quest'anno c'erano le possibilità di vincere il Mondiale La vettura c'era, Leclerc c'era E se si fosse cambiato qualcosa nel team il Mondiale quest'anno era veramente alla portata Non è sicuro che l'anno prossimo lotteremo per il Mondiale Perché l'anno prossimo ragazzi Sappiamo Ferrari quanto possa fare fatica a creare la vettura vincente per due anni consecutivi Quindi partiamo da questi presupposti Prima di partire con questo video dove sarà molto liquido Vi dico iscrivetevi a questo, al secondo canale Supercorris The Gamer Lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris Offerte Amazon Dove tutti i giorni anche oggi vi ho messo le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia, videogiochi, telefonia C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram Per le news in anteprima, i sondaggi con cui scegliamo che live fare, che video fare, che giochi comprare Quindi trovate tutto là C'è Fruit Lab e c'è Twitch Allora ragazzi, il discorso è semplicissimo Perché a me non mi va bene quello che è accaduto ieri Perché se andiamo a vedere la gara di ieri è la settima vittoria su nove gare di Red Bull E noi continuiamo a dire, eh però Ferrari c'è, eh però Ferrari va bene, eh però il motore ha mantenuto Eh però il passo c'è, sì però c'è ragazzi Ogni gara diciamo le stesse cose Ferrari c'è, il passo c'è, però si poteva provare Però all'atto pratico il risultato è che abbiamo 70 punti, 80 di svantaggio nel costruttore e più di 50 nel piloti Mi volete dire che Red Bull la possiamo abbattere continuando a rimanere dietro? No Allora Solo per parlare L'assurdità del team Ferrari inteso come muretto Cioè Va benissimo tutto Ennesimi errori al pit stop Cioè non capisco Fai entrare le clerk sia di strategia Perché bastava fare altri due o tre giri con le clerk dietro con Lo facevi entrare e uscire tranquillamente davanti al gruppo Dei Ricciardo, dei Stroll No, lo fai entrare in un momento inutile Fai il solito errore Ragazzi Ora non è più un qualcosa di sporadico Ferrari sbaglia almeno un pit stop a gara Ieri ne ha sbagliati due Cinque secondi e tre di pit stop perché cade il carrello Cade la macchina dal carrello Ma dove si è visto mai, guaglione? Cioè solo Ferrari è capace di fare queste cose Allora è giusto che uno si incazza È giusto che uno gli viene, gli girano i coglioni Certo Se non siete delle caculo Ma se siete delle caculo Che state sempre Come mi scrive la gente Tu qua, non insultare l'ala Io faccio quello che cazzo mi pare Ragazzi Voi dovete capire che state sul canale Di uno youtuber Che fa quello che cazzo gli pare E se ne sbatte Se a voi vi dà fastidio o no I lecchini Io ve lo dico subito Disiscrivetevi da questo canale Abbandonate subito Perché questo sarà sempre un canale Di una persona che dirà Sempre quello che pensa A prescindere da Dal fatto che possa essere popolare Il suo pensiero o no Non mi interessa Non mi interessa Io critico quello che vedo Se Ferrari fa cagare Io la critico Come l'ho esaltata Quando ha fatto bene Basta Se a voi non vi va bene Ci sono altre 7 miliardi di canali YouTube Mo tutti di Formula 1 parlano Gente che l'anno scorso Quando la Ferrari faceva cagare Non esisteva Mo tutti di Formula 1 parlano Andate a seguire quelli Nessuno aveva detto Rimanete qua Io faccio autocritica Perché mi reputo Uno Un ferrarista E mi fa ridere anche Che cosi Il perbenismo di voi Ferraristi del cazzo Che da quest'anno Siete arrivati in pompa magna Mi fa ridere perché Se il tifoso Ferrari Come me Come tanti altri Criticasse la Ferrari E facesse Smuovesse una sommossa popolare Ragazzi Vedreste che i vertici Ferrari Inteso come famiglia Elkant Dovrebbe prendere Delle contromisure Perché fate caso Quante volte Una squadra di calcio Invece con i tifosi Cacciano l'allenatore Comprano i giocatori Succede il putiferio Se noi lo facessimo Anche in Formula 1 Vedreste che Elkant e company Che hanno deciso Di puntare su un team Prevalentemente italiano Eh ma per l'italianità No Per risparmiare Hanno deciso Di non prendere Strateghi di qualità Ingegneri di qualità E dopo succedono Ste minchiate ogni gara Se uno si lamentasse In massa Vedreste che le cose Cambierebbero Invece no Continua a rimanere Alla guida Della Ferrari Un incapace In quel ruolo Che è Binotto Continua a rimanere Nel team Gente che non riesce Manca a tenere il carrello Quando entra la macchina Io non l'ho vista mai Una cosa del genere Allora Houston Abbiamo un problema Vogliamo parlare di Leclerc Cioè un pilota Che deve fare una gara Al nono gran premio Della stagione Ha cambiato quattro motori È normale per voi Cioè ragazzi Ma è normale questo Cioè se parliamo di Leclerc Però ha fatto una bella gara Leclerc per gareggio Ha dovuto cambiare Il quarto motore Cioè ma stiamo Stiamo scherzando Leclerc ha fatto Una grandissima rimonta Solo un piccolo errore Alla chicane Sarebbe potuto arrivare Anche tra Russell e Hamilton Addirittura insidiare Hamilton Se non facevano Le cappellate al pit stop Perché Ripeto Leclerc perde secondi Su secondi al pit stop Come li perde Sainz Con un pit stop Di 3 secondi a 7 Allora Cosa vogliamo difendere ragazzi Il team è indifendibile Vogliamo parlare di Sainz Sainz L'ho sempre detto È un buonissimo pilota Però Non è un campione Può darsi che nella sua carriera Possa fare lo switch L'avevamo creduto L'anno scorso tutti Ora vi dico Non lo è Non è un campione E penso che a 26-27 anni L'età che ha Sainz Cosa vuoi cambiare più ormai Cioè Sainz Vince Gasly La gara che lui poteva Tranquillamente vincere Arriva con un missile Dietro Gasly Rimane plafonata A Monza Non so quanti giri Non riesce a passare Alfa Tauri Con la McLaren Che era un missile Terra aria E non vince quella gara Ha fatto gare su gare Dove è arrivato secondo Compresa a Monte Carlo Quest'anno Dove sta là Non prova mai a fare nulla Fatemi capire Sainz che Errore Ferrari Perché avrei messo le rosse Mancano 15 giri Sai che la safety car Rientra Innesimo errore Metti le rosse Non c'è le gialle Che io penso che le gialle Pure un minimo usurate Ce l'aveva Metti le rosse Metti le rosse Non durano 15 giri Con le rosse attaccavi E te ne andavi Eppure se gli ultimi due giri Perdevi qualcosa Te ne eri andato No Ferrari Come al solito Il cagasotto Gli ha messo le bianche Ma c'è le bianche 6-7-8 giri Più fresche di Verstappen C'è il DRS Eh ma Ferrari Non va in rettilineo Ma che cazzo dite ragazzi Uscito dal tornantino Sainz Stava sempre a 7-8 decimi Da Verstappen Arrivata l'ultima Scigant Stava a 4 Vuol dire che la Ferrari Andava in rettilineo Eh ma perdeva un po' Tutti quanti Perdevano trazione Se non l'avete capito Un effetto elastico Che praticamente A parità di gomme Più o meno di condizione Tutti quanti Perdevano trazione Rispetto a quello davanti È un qualcosa di normale Allora Fatemi capire Tu fai 15 giri Dietro Verstappen Possibile che una fottuta volta Non decidi di provare Una frenata Pazza Una volta E all'ultima chicane E alla prima chicane Una volta No Sempre monotono Verstappen Se l'avete visto Non faceva neanche Pizzig zag Non andava a chiudere l'interno Perché lo sapeva Perché Verstappen lo sa La pecora che c'ha dietro Che non fa un cazzo È normale Per voi una cosa del genere È normale Adesso dobbiamo esaltare Sainz di che Ragazzi Se l'avete capito Arrivata secondo Sainz Ha vinto Verstappen Un'altra volta Ha guadagnato successivamente Punti sulle Clerc Avete capito questo Stiamo parlando Che Sainz Quando vince Fatemi capire In una stagione Dove palesemente È sempre inferiore Al compagno di squadra Agli avversari Quando vince Sainz Quando gli ricapita più Che Perez va fuori E che le Clerc sta dietro Quando gli ricapita più Non lo so Quando ricapiterà ragazzi Non lo so A Montecarlo A Montecarlo Non ha vinto lo stesso Qua neanche Io non lo so Quando gli ricapita Ma presumibilmente Sarà difficile In una stagione normale Che Sainz Abbia altre occasioni Cioè tu sei un pilota Che c'hai Quasi 30 anni Non hai mai vinto Un cazzo Cioè dovresti avere Il sangue agli occhi Per tentare qualsiasi cosa Per vincerti la prima gara Che Sarebbe la prima vittoria Per te Quindi riscrivi la tua Storia personale Sarebbe la vittoria Per Ferrari Vai a guadagnare punti Su Verstappen Cioè Vai a togliere punti A Verstappen Sarebbe un rilanciare Pazzesco Per il tuo futuro E tu stai là Tranquillamente Fai tutti i giri Come a Montecarlo Senza provare nulla Senza metterti qualche volta Se fattete forse una volta Senza tentare nulla Ragazzi Ma dai Ma che cazzo Volete difendere Ma lo difendete Solo perché siete Dele caculo Chi lo difende Perché è indifendibile Perché Sainz Eh ma poteva Ma sbatti cazzo Sbatti porco zio Sbatti con Verstappen Che cazzo Te ne frega Tanti il secondo post Che ti cambia Cosa gli ha cambiata La Ferrari a Sainz Il secondo Nulla Ferrari c'ha 80 punti Dalla Red Bull Nella classifica Costruttore Perché ha perso ancora E praticamente Sainz sta qua Quinti in classifica Sta sempre dietro Allora Era meglio provare E rischiare qualcosa Con L'ha fatto vedere Leclerc Leclerc ha fatto sorpassi Raga E retterini Da 100 km dietro Ora sì Non c'aveva Verstappen Avanti Ma tu Sainz Che il retterino Guadagni Prova una pazzia E buttati dentro Pure alla prima Sciganna Almeno una volta Inerme Cosa è cambiato Ennesima gara Che vince la Red Bull Che si porta avanti Ancora di più Leclerc perde punti Nel mondiale piloti Ferrari Nel costruttore Sta a distanza Di siderale Quando lo vinciamo Il mondiale Ragazzi Come possiamo pretendere Di vincere un mondiale Si deve ritirare Due o tre volte La Red Bull Di Verstappen E non accadrà E Leclerc Deve stare là A vincere Però la differenza Quale? Che Perez Quando ha dovuto Coprire le spalle A Verstappen C'è riuscito Sainz no Come faceva Barrichello Come facevano I secondi piloti All'epoca Ferrari Pure Massa Con Schumacher Quando ha avuto L'occasione Ha vinto Ha sottratto punti Agli avversari No Sainz invece no Sainz sta là Come un ebbete A Monte Carlo Gliela ha fatti perdi Punti a Leclerc Si è stato furbo Però ha fatto comunque Una cosa Che è andata A incidere Sulle Clerc E qua ieri Niente Inerme Allora Mò voi Mi volete dire a me Eh no Ma tu sbagli Noi non sbaglio niente Ragazzi Non sbaglio nulla L'errore su Sainz È stato Semplicemente Fargli il contratto Gli rinnovi Nella maggior parte Dei casi Si fanno In estate Inoltrata Gliel'hanno fatta La terza gara E Sainz All'Ase è seduto Retiri Errori gravi E zero incisività Zero cattiveria Nei duelli Ecco cosa sta facendo Sainz Allora Adesso mi devi incazzare io Voi mi dovete spiegare Quante possibilità C'è a Ferrari Di vincere il mondiale Se Neanche nelle gare Dove la macchina c'è Potrebbe vincere Vinci E ieri Sainz Non meritava Perché ieri Se non c'era la safety car Verstappen Nella Red Bull Stavano dieci secondi avanti Quindi All'atto pratico Senza la safety car Era un'altra gara Facevo un secondo posto Sialbissimo Sainz Dei soliti Secondi posti Ma con una macchina del genere Anche io avrei fatto Un secondo posto Quindi Non è che stiamo a festeggiare Cosa Cioè Sainz Ieri c'è una Ferrari Pazzesca Una Ferrari Pazzesca Che era forse Meglio di Red Bull Che è accaduto Poche volte In Australia È accaduto E a Monte Carlo E non si vince Allora ragazzi Mi dispiace Ma per me Ve lo ripeto ancora Questo mondiale è andato Perché non lo vinceremo mai Né per le capre Che abbiamo al box Né per le pecore Che abbiamo in macchina Come Sainz Purtroppo Leclerc Subisce L'affidabilità Che si riproporrà Perché contate che Leclerc Avrà anche Altri problemi e penalità Per l'affidabilità Non finisce qui Perciò Ho i miei dubbi Ma mi fa ridere Il pervenismo Delle caculi Ferrari Che stanno là Leccare il culo A esaltare Un secondo posto di Sainz Con una macchina Fenomenale E con un risultato Che non poteva Non essere la vittoria Per quello che ti sei andato A plasmare in pista Ovvero Ritiri degli altri Problemi degli altri Altri con le gomme Piusurate Ma ancora vinci Quando cazzo vinci Ma Sainz vi vince una gara Partendo Facendo la pole E vincere quest'anno Ma non lo farà mai Quindi Quando parlate Attaccate il cervello Se non andate su altri canali Perché vi vanno E ne ho bannati 50 Ragazzi Ieri tra ieri e stamattina Ne ho bannati 50 E ne banno altri E me ne sbatti i coglioni Perché questo canale Non c'ha bisogno Dei leccaculi Perché io nella vita Ho tagliato i ponti I rapporti Con tutti quelli Che erano i miei amici In mia cerchia sociale Perché Odio Qui dove abito io Sono tutti leccaculo Falsi Figurte Si apre il canale youtube Per dire quello che pensi E mi faccio insultare Da certa gente Non ci pensate Andate a vedere Altri canali Ciao Ciao a guaglio Ciao a guaglio